che si fa oggi in cazzo oggi sta per mo stiamo così parlamo mo vi faccio vedere sono quasi un'ora è quasi un'ora di video dove c'è una casa da mezzo miliardo di euro mezzo miliardo non mezzi milioni tanto se qualcuno non capisce l'inglese non vi preoccupare perché se dici qualcosa di importante ve lo traduco io the one is the largest house ever built in the urban world la uno è la casa più larga mai costruita nel mondo urbano questo ti parla di piedi quadrati ora non so il piede rispetto al metro quadro come funziona ed è valutata mezzo miliardo di euro questo peraltro è il producer di eminem ok quindi questo è l'architetto solo vedere com'è fuori è da panico se tu pensi che questa è l'entrata questa non è manca cast ancora facciamo capirci questo cammina sull'entrata di casa e lì si apre la porta di marmo da sola cioè sembra come quando entri nel centro commerciale solchè che si è cast io mo voglio capire ma ti si apre solo a te? o ci passano strunzi si apr? ma tu c'hai presente l'eco che deve stare in una stanza tu pensi un giorno ti fai rodere il culo e dici sì però mi dà fastidio questo eco mettiamo due tende praticamente devi pagare una cosa come un milione di euro di tenda ti parte per prendere quella vetrata le parole di quest'uomo sono state ormai per me non sembra neanche troppo grande ci ha messo dieci anni a farla e grazie oh cazzo mi verrebbe da dire ti capito fig di chi not tutte le cose che c'ha l'armada il crystal ma non le rifiniture sono italiane grazie Andre c'è ha rifatto una stanza la meeting room ok la meeting room di questa casa l'ha rifatta sulla base dell'hotel plaza di New York Cus ha fatto la hall dell'hotel in dalla casa c'è una corsia per correre attorno alla casa hai fatto una pista la pista olimpionica se tu corri dal cesso all'altro cesso probabilmente hai fatto la maratura di New York andiamo avanti questo è Simone Condès in Murano, Italia hai capito? hai capito? hai capito un stront questo l'ha fatto un francese perché il nome era francese di quest'artista che aveva capito che cazzo è tutto in vetro di Murano che sa fresco cossa quanto casa mia è casa mia neanche l'ho pagato perché è in affitto mi sta triggerando come un porco il tappeto non è dritto sta un pezzo che va un po' più storto questo è un elevatore penso che ci sono 6 elevatori c'hanno c'hanno 6 ascensori dentro la casa la porta è rimasta aperta giovane i fiori sono finti ma quello sti cazzo capito? lui ti dice i fiori li abbiamo pagati di più perché li abbiamo fatti finti però così non ti devi preoccupare di metterci l'acqua perché secondo te quello che si compra a questa casa andrà lui ad annaffiare i fiori io sono sicuro io sono sicuro che chi spende mezzo miliardo di euro per comprare una casa poi si mette ad annaffiare le piante sono sicuro fiurt ma da cattavileda devi essere azionario di vileda per pulire la casa ok questa è la stanza per fumare i sigari perché se ha mai che tu vai in giardino fiurt allora vai a fumare i sigari qua e c'ha una ventilazione specifica a lui non fuma neanche bene ok oh rob di playboy rob di zinne tu immagina che se vuoi andare a fumare un sigaro e sei dall'altra parte della casa devi prendere l'aereo cioè tu di giorno prima ti devi preparare perché dici mo domani però sai che voglio fumare immagina avere sei ascensore e fare le scale guarda che sta facendo un trimone al lavandino ma comunque ma no è la macchina del caffè cioè esce un ipad che clicchietti fa esattamente quello che vuoi tutto fresco ah dici che questa non la usa nessuna solamente per bel vedere perché poi ovviamente hanno una cucina apposta professionale per lo chef perché ovviamente ti pare che te dà a metto a che ce n'è ovviamente no c'è la piscina idromassaggio c'è tu putassi da casa tu esci da casa tua ti metti in una piscina e fino alle sei del pomeriggio praticamente dalla mattina alle nove puoi cambiare piscina ogni due ore è una roba è una roba che è inconcepibile cioè per fare una casa del genere per vivere una casa del genere almeno ci devono vivere ma che cazzo ne so mille persone cioè mille persone inizia a dire mo però sai che cazzo sto un po' stretto cioè se tu vivi in quattordici qua dentro non ti vedi oh ragazzi non so che cosa devo dire cioè qua c'ha il cocorico dentro casa tipo guarda cioè lui praticamente lo sapete quanto fa lo vuoi lo cammina tutti camminiamo più o meno e quindi tu fai immagina un tuo una tua falcata guarda quanto poco fa nella stanza tu fatti una idea di quando cazzo è grass 40 piedi off of the man vuol dire che hanno tolto hanno preso 40 piedi dalla montagna e hanno rifatto hanno fatto pianeggiante utilizzabile hanno scavato nella montagna per fare pianeggiante no che cosa devo dire il cesto che ti saluto ogni tanto tu arrivi vai a cacare il cesto si alza cioè praticamente questo ha detto che vuole mettere una telecamera nel cesto degli uomini e nel cesto delle donne c'è la telecamera del cesto degli uomini sono stranito e questo è verissimo questa è una troiata ha voluto fare la battuta Donald Trump però effettivamente è vero che in effetti qua il matrimonio funziona perché se a me un momento mi sei sul cazzo e me ne vado dall'altra parte della casa e ragazzi io non ti vedrò mai capisci che io devo prendere l'appuntamento per vederti devo chiamare devo fare senti ma ci vediamo in cucina dici sì fammi preparare dammi 3-4 ore ah questo è un cesto metti che c'è la diarrea non riesci ad arrivare al cesto boom ne mettiamo 40 in tutta la casa tu puoi cacare per due mesi in un cesto diverso ah questo è il balcone di prima no wangu dai che vince è allucinante tu immagini che metti a lavorare la segretaria là sotto tutta a fa così da c'è deve essere meraviglioso ma è una roba è una roba senza sé pensi che se succede qualcosa e ti metti a gridare a parte che non ti sentirà mai nessuno ma ammetti che per botta di culo hai i 12 megafoni stile Bart Simpson e qualcuno ti sente il tempo che arriva a casa tua praticamente ha una pasta tu soma sì questo è Louis Vuitton Louis Vuitton a Parigi è uguale oh se è l'armadio wangu questo è l'armadio wangu ma di che cazzo stiamo parlando 5 centimetro da vitro capito ammetti che è un po' troppo claustrofobico frate è un po' troppo claustrofobico mi dà fastidio cazzo la televisione davanti almeno la facciamo entrare nel muro così non mi rovina niente capito c'è sta perché tanto la finestra che c'hai a fianco sarà grande quanto non lo so è Cape Canaveral e la server room la server room costa 10 milioni di euro no wana 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 c'ha il parrucchiere dentro casa parrucchiere pedicure no vabbè no ah ok perfetto pensa se sei a stemmi in questa casa sei stronzo c'ha il bowling dentro casa no wana va bene dai va bene 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 c'è poco che io possa dire se non va bene stavolo da bigliare ma vai ragazzi ma cioè ma stai scherzando ma sai come gli altri lock up che sei per tirare ti sbatti le gasteme che tiri a me mi fa ridere a me mi fa ridere a me mi viene da ridere mi viene da ridere a me perché io vorrei piangere ok io vorrei piangere però mi viene da ridere mi viene da ridere